Ciao a tutti! Oggi vi farò vedere come realizzo il Frenchie Struttura nella forma a mandorla. Dopo aver eseguito la manicure, procedo con la preparazione meccanica e chimica della lamina. Applico la nel form e con il gel Diamond creo un allungamento molto sottile. Procedo con l'allungamento del letto uguale con l'acrylic gel per dare forma al mio muretto e dopo aver polimerizzato definisco la forma con una lima 180-240. Applico successivamente il gel polish nero con il Glitter Shine per poi applicare i confetti e terminare il riempimento del mio Frenchie con il gel Diamond. Dopo aver polimerizzato definisco la forma del mio Frenchie e sigillo infine con il Gloss Top. Ecco a voi il risultato finale!